Salve a tutti, in Regione Toscana abbiamo iniziato a lavorare sulle partecipate e sulle fondazioni e abbiamo deciso di condividere insieme a voi questa nostra analisi, questo nostro studio anche per farvi capire meglio come funziona. In primis analizzeremo che cosa è cambiato in Italia in tema di appalto di lavori pubblici perché prima del 90 c'era un sistema, dopo gli anni 90 ne abbiamo un altro. Quindi andremo a focalizzare la nostra attenzione sulle società partecipate e le società chiamate così contraente generale, general contractor e poi devono realizzare anche le fondazioni. Prima lo faremo un lavoro generico perché è legato a tutti gli organi amministrativi pubblici e poi andremo nello specifico sulla Regione Toscana con le sue partecipate, molte delle quali sono in rosso e poi andremo anche sulle fondazioni. È un lavoro grande, però noi crediamo che sia molto comprensibile. Basta riuscire a spiegarlo nei termini giusti. Io non sono un esperto, non sono un luminare di contabilità, però me lo sto studiando e credo che sia possibile farlo capire in modo semplice a tutti, in modo che ognuno possa andare a trovare nel suo paese dov'è il corrotto e il corruttore. Vi annuncio già di cosa parleremo nel prossimo incontro video ed è proprio capire come è cambiato in Italia affidare lavori pubblici. C'è stato un cambiamento sostanziale e noi andremo a focalizzarci su quello. Un saluto a tutti. Grazie. 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 Grazie.